Musica Cari amici ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di Tempo al Tempo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione generale prevista per giovedì 19 luglio. Persistono condizioni anticicloniche garanti di stabilità e bel tempo su Molise, Basilicata e Puglia dove prevarrà il sole per tutto il corso della giornata. Ed ora più nel dettaglio la situazione della Puglia. In Puglia bel tempo con cieli sereni per l'intera giornata. Spazio adesso alle previsioni per Basilicata e Molise. In Basilicata bel tempo con cieli sereni su tutta la regione. Anche in Molise bel tempo e cieli sereni per l'intera giornata. Infine vediamo come cambia la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in rialzo nei valori massimi, venti da moderati a deboli tra Medio-Bassa Puglia e Ionio settentrionale. In rotazione e rinforzo serale da sud-est al largo del Molise. Mari poco mossi, localmente mossi a largo. Per ora è tutto con le nostre previsioni. Vi lascio in compagnia di programmi di Antenna Sud e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.